Continuano le indagini per fare luce sull'arresto di padre Rosario Buccheri, finito in carcere lo scorso mercoledì, accusato di aver consegnato un panetto di hashish ad un detenuto del carcere di Enna. Dalle indagini portate avanti dagli inquirenti, trappellerebbero particolari inquietanti. E' questo l'aggettivo utilizzato dallo stesso G.P. Giuseppe Noto nell'ordinanza di convalida, secondo cui emergerebbero profili inquietanti sul suo possibile inserimento in un contesto di criminalità, anche di tipo organizzato, di elevato spessore delinquenziale. Nella fattispecie, nei documenti sequestrati a Don Buccheri, ci sarebbero anche dei pizzini fittamente scritti, sparsi in tutta la sua stanza del convento di San Francesco. Inoltre, gli agenti del nucleo investigativo della polizia penitenziaria, in seguito alla perquisizione domiciliare, avrebbero trovato un'ingente somma di denaro, una pistola calibro .38, due sciabole, un fucile a cannemozze, numerosissime munizioni e vari foglietti di carta. Il carcere di Enna oggi ospita appartenente al clan Santa Paola di Catania, declassati a detenuti comuni, che potrebbero fare la differenza nella vicenda. A questo le indagini ancora in corso dovranno dare risposta. Infine, padre Rosario Buccheri, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, che si è svolto sabato davanti al GIP Giuseppe Noto, alla presenza del PM Michele Benintende e del legale del parroco Nino Grippaldi del Foro di Catania, si sarebbe difeso dichiarando di essere stato minacciato e definendo in eredità la somma di denaro che sarebbe stata ritrovata nel suo domicilio.